Il Paradiso delle Signore, Ezio potrebbe rivelare Veronica di essersi baciato con gloria. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16 e 5 sulla prima rete Rai nonché in streaming su Rai Play. Le anticipazioni della sua popera italiana, nata da un'idea di Gianna Andrea Pecorelli. Riguardo alle puntate dal 19 al 23 dicembre evidenziano che Ezio, Massimo Poggio, informerà Vittorio, Alessandro Tersigni, che Gloria, Lara Kumar, finanzierà il suo progetto per il denim. Don Saverio, Andrea Lolli, intanto, verrà a conoscenza che Teresio non è rientrato in casa e metterà al corrente della scoperta Gemma, Gaia Bavaro. Nel frattempo Colombo Signore e Muro avranno un chiarimento dopo il loro bacio. Veronica, Valentina Bartolo, invece, penserà bene di accettare la società tra la capo commessa ed Ezio. Allo stesso tempo, inviterà il compagno a riprendere la loro convivenza, mentre Gloria osserverà la ritrovata quiete in casa Colombo. Ezio, infine, potrebbe essere in preda ai sensi di colpa dopo l'effusione avuta con Gloria. In un impeto di sincerità e voglia di pulirsi la coscienza, rivelerebbe a Veronica ciò che è accaduto. Anche i telespettatori dello sceneggiato di Raiun meno attenti non sarà sicuramente passato inosservato il feeling che tiene banco tra Ezio e Gloria sin da metà della scorsa stagione. Entrambi, almeno se no agli episodi in essere, etichettano il loro rapporto come semplicemente amicale. Ma il bacio che si scambieranno Ezio e Gloria nella puntata che andrà in onda venerdì 16 dicembre sembra smontare completamente le loro credenze. Se a ciò sommiamo i reiterati alti e bassi che stanno attraversando Teresio e Veronica. Ecco che viene facile pensare come il signor Colombo potrebbe, in realtà, amare ancora Gloria ma non riuscire ad ammetterlo a se stesso. Nell'episodio del Paradiso delle Signore 7 che sarà trasmesso giovedì 22 dicembre. Come anticipato, Veronica chiederà a Ezio di riprendere la loro convivenza e Considerando che la donna ha cambiato idea sulla società del compagno, quest'ultimo accetterà di buon grado. Così Gloria dovrà assurbirsi la ritrovata quiete in casa Colombo. Teresio, allo stesso tempo, potrebbe dover fare i conti col bacio scambiatosi con la capocommessa. Effusione che ha fatto sì che l'uomo tradisse la fiducia di Zanatta Senior. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali sull'evoluzione di tale storiline, è probabile che il padre di Stefania, Gras Ambrose, decida di pulirsi la coscienza confessando alla compagna ciò che è successo con Gloria. Se tale eventualità dovesse concretizzarsi, come reagirebbe Veronica?